Questa cosa di isolamento io non ce la faccio più, ma che devo fare? Sei il bene avvocato, un avvocato vero. Tutto è cominciato un giorno, e il giorno mi hanno ammazzato un padre. Vabbè, volete guadagnare un po' dei soldi? E chi sei, Babbo Natale? Il tuo cazzo è salito! Dove vanno a mangiare? Con questa ci mangi pure sopra. Mille euro a volta. E di che si tratta? Dicevo che avete amiche minorenne disponibili. Non ti metti mezzo in piccino, arco tu. Voi asciò, ho paura poco dei cazzo e tanto meno di te. Te lo mi devi toccar. Vabbè, quando c'est'anni che compri c'est' idea. Non fai lo stronzo. Vabbè, su te merda, tira fuori il cazzo e il portafoglio, sbrigati. Io devo uscire da qua che sia da 10, 20, 30 anni. Io mi devo rifare una vita. Non fai lo stronzo. Non fai lo stronzo. Non fai lo stronzo.